Adesso devo fare le tartine, che questa sera c'è il pranzo di Natale. Ti sento un odore di putrefazione. Ciao, ma cosa stai facendo? Ecco che è arrivata, ciao. Sto facendo le tartine. Ma come le fai? Come le fai? Come le fai? Le farmi a dire, no, con la salamandra. Che buona, è mia distinzione. Ecco, sì, allora è mia distinzione. Ma tu non lo fai per pranzo. Non gli dici. No, vado, vado, vado il sospiro. A sospiro, o in Creccia, è un locale bellissimo. Ma te la bocca. L'ospedale, ma è un ristorante bui. Ma che roba. Ecco, allora va. Come la va? Come la fa? Eh, insomma, si fa qualche si può. L'altro giorno mi si è intassato il lavandino. Come hai fatto? Come hai fatto? Non mi andavo a portare il capello, come la faccio? Ho preso la ventosa e ho tirato, tirato. Ho mica tirato troppo, ho tirato su tutta la bandina. No, 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 no. Come fai? Ma quello lì è. Come fai? E che se tiravo su... Ma hai chiamato il drago? No, non l'ho chiamato il drago. Ma parca che c'è un amico drago? Ah, è credibile, che cosa? Eh, ma dovrei fare le cartine, se no non finisco più. Eh, ma... So che mia figlia ha preso la macchina nuova. Ah, sì? Preso la macchina nuova. Ah, chiedimi che macchina è. Chiedimi che macchina è. Che macchina è preso. Come sei curioso. Eh, ma bruttamente l'hai detto qui, eh, non è credibile. Ah, che c'è una macchina nuova. Sì, c'ha l'interno di radizzi. C'ha dei cempioni in rucola con i capperi sulle portiere. Ah, sì, e i sedili in palle. Oh, ecco, allora... Anche mio figlio ha preso la macchina nuova. Chiedimi che macchina ha preso. No, perché se no mi dice che sono curioso. Ma come sei? Però ha preso la... È la... è la... è la vulva. La vulva 740 intercola. Come la voce. Sì. Ma sentitelo. Ma è bella. È schiacciare il dio. Non si accende. Incredibile. Vabbè, ma non so che fanno una volta. Ci sono qui le macchine che fanno una volta. Ci sono qui le macchine che fanno una volta. Devo testare la posta i capelli. Ma tene, a fare in giro la neuro? No, no. È ogni tanto così. Tanti piedi temi. No, no, come se sei simpatica. Guarda. Adesso devo andare. Perché devo andare a... a storrare i cessi. Come storrare i cessi? Mi faccio l'idraulico nel tempo libero. Ma ti perdo... Te l'ho detto prima. 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 Ma ti perdo il water? No. Ma ecco, allora niente. Vabbè, allora se... Guarda. Chi è su con Lugo? Chi è Lugo? Ma non ce l'ho più Lugo. Ma non ce l'ho più Lugo. Ma vaffan... Adesso ho il Mario. Ma vaffan... Ma è corribile. Guarda.